10 abitudini da iniziare ad adottare adesso per finire bene il 2023, parte 2. Come sempre, se non avete visto la parte 1, è letteralmente il video prima questo, quindi andatela a guardare sul mio profilo. Numero 1, raga, questa... non so perché non c'è più gente che lo fa, però è veramente facile. Iniziate a sfruttare l'app del calendario del vostro telefono, iPad, MacBook, computer, laptop, quello che avete. Io trovo che pianificare la mia giornata sia una delle cose migliori che abbia mai fatto perché riesco ad attenermi agli orari che mi sono data. Ovviamente mi lascio sempre dei margini perché non sono una macchinetta, per cui non è che tipo sono perfetta ed è se dico che devo iniziare a studiare alle 4, alle 4 precedenti sono quelli aperti, magari inizio alle 4 e mezzo, magari ci sono degli impegni imprevisti, quindi ovviamente c'è del margine. Però in generale così riesco a valutare le cose che ho da fare e se mi devo mettere degli impegni non li metterò in quegli orari perché è tipo un'indicazione. E per fare questa cosa, la cosa bellissima è che non vi serve nessun app, non vi serve nessun device, non dovete pagare dei soldi, aprite l'app del calendario del vostro telefono o se la volete tenere io ce l'ho sull'iPad perché è quello che uso per lo studio, però se voi non volete farlo potete fare direttamente al vostro telefono e vi segnate i vostri impegni, tipo nelle fasce orarie, semplicemente andate su aggiungi evento, scegliete il giorno, scegliete l'orario e lo aggiungete al calendario. In questo modo la vostra vita sarà un botto più organizzata e di nuovo se avete tipo degli impegni da mettervi, anche cose tipo divertenti, feste o uscite con gli amici, voi sapete che in quel giorno in realtà dovreste fare questa cosa e quindi sapete come regolarvi per impegni nuovi. Numero due, iniziate a fare un po' di decluttering. Cos'è il decluttering? Allora è il termine inglese che lo rende più figo da dire, eccetera, però sostanzialmente fate pulizia nel vostro armadio. Oppure nei vostri cassetti, insomma, dove avete delle cose in più che sapete che non vi servono, però siete magari, non so, io ci sono legato, mi piaceva tanto, pure questo geggino me l'aveva regalato, la mia amichetta, delle elementari, quindi non li date via. Iniziate a disfarvi di tutte queste cose perché lo sapete, cioè vi giuro che lo sapete, che sono inutili e vi occupano spazio e non li usate. Liberarsi di queste cose vi libera anche un po' la mente, l'animo, vi fa sentire meglio, vi fa dire ok, ho la vita un po' più organizzata e poi soprattutto quando voi decidete di, non so, io parlo sempre dell'armadio, quindi vestiti, però applicabile a tutto, quando voi decidete di togliere le cose dell'armadio per vedere cosa tenete o meno, vi rendete, vi fate anche un'idea di quello che effettivamente avete e possedete. Per cui mette che io volevo comprarmi una maglia nera, semplice, e tiro fuori dal mio armadio e mi rendo conto che ho 300 maglie nere, quindi non mi serve. E quindi andate a capire che cosa dovete assolutamente comprare, cosa invece avete già, quindi vi fate anche un'idea di quello che avete e quindi di quello che vi può servire. Sempre visto il fatto che è tipo fine anno, quindi magari siete iniziando a pensare alla wishlist per Natale, o se avete dei compleanni, eccetera, siete più, diciamo, consapevoli di quello che vi serve. Numero 3, questa ve la dicono tutti, raga, ve la dico anch'io perché effettivamente è molto importante, bevete l'acqua almeno un litro e mezzo al giorno. Un litro e mezzo è una indicazione generica, per cui se, non lo so, io sono tipo alta, un metro e 75, quindi sono tipo nella media, però sono una ragazza, mi serve un litro e mezzo se voi siete più alti di me, oppure avete delle esigenze particolari, siete dei, non lo so, atleti professionisti, per cui, che so, siete in nazionale, eccetera, avete bisogno di più acqua, se invece voi avete una situazione all'opposto, magari siete molto più bassi, molto più piccoli di me, ve ne serve di meno, quindi in generale, però sappiate che comunque un litro e mezzo non è universale, cioè veramente, se voi avete anche tipo, andate in palestra tanto, vi serve molto più di un litro e mezzo, quindi cercate di capire quant'acqua vi serve e iniziate a bere, è super importante. Numero 4, iniziate a romanticizzare lo studio. Per romanticizzare intendo crearvi tipo una situazione carina, che vi piace, che vi fa venire più voglia di studiare, perché secondo me verso la fine dell'anno, anche con la conclusione del trimestre in molte scuole, o soltanto per il fatto che i professori iniziano a impazzire, perché sta finendo l'anno e non abbiamo voti, eccetera, vi vengono messe un sacco di verifiche, tutte attaccate e voi date in palla, ed è una cosa che, mi spiace dire però, succederà sempre. E quindi se voi iniziate a non soffrire lo studio, perché effettivamente in realtà studiare può essere anche divertente, perché imparate delle cose, è una cosa che fate da un po' di tempo, eccetera. Allora, iniziate a romanticizzarlo, eccetera, quindi, come so, candele, sottofondi musicali, non lo so, vi sentite Rory Ginwood, eccetera, vi aiuta a finire l'anno studiando, che è una cosa che dovete fare, però senza farvelo pesare troppo, perché alla fine io ammetto che uno dei motivi di ansia maggiori sono tipo tutte le verifiche appiccicate a dicembre. Grazie.